Dieci persone sono finite sotto inchiesta per il reato di traffico di rifiuti legato allo smaltimento degli yacht che si erano arenati sulla costa o schiantati sugli scogli a Rapallo a seguito della violenta mareggiata dello scorso ottobre. Il pubblico ministero Andrea Ranalli ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Dell'Asta, amministratore delegato della società che gestisce il porto Carlo Riva, Marina Scarpino, direttore dello stesso Scalo, Mirko Malziani, responsabile della sicurezza del porto e Pasquale Capuano, imprenditore campano che gestisce un cantiere di smaltimento a Carrara. Sotto inchiesta altre sei persone, titolari di piccole aziende, che hanno lavorato per conto di Capuano. L'inchiesta, condotta dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, aveva preso il via nel maggio scorso, dopo che le verifiche effettuate su un camion che usciva dal porto avevano evidenziato la mancanza dei necessari documenti per il trasporto e smaltimento dei retriti. I legali del porto di Rapallo hanno evidenziato come il bacino e i suoi dirigenti siano, a loro dire vittima di una truffa.